Il sale lo puoi portare via, Luca. Guarda lì, il servizio. Sì, è famosissimo. Sono brasiliana, chiamata in Bulgaria, mi ricordo che sono felice, dal Gran Canale, tutto il mondo, guarda che è più felice. Ciao chef, welcome back to Grandma's Kitchen. Lo sai, Rico? Vai, Rico, becca, nonna. Il tino, apposta. Anche perché questo devo mangiare al tinto. Yeah, it needs to be al dente. And then... Buono, buono. Buono.